Sale a 8 morti e 88 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo di ieri contro un edificio residenziale a Pokrovsk nel Donetsk. Nella notte l'allarme antiaereo è scattato in altre sei regioni del paese, tra cui Zaporizia. Intanto, secondo l'intelligence, Zelensky sarebbe sfuggito a un attentato progettato da Mosca che contava su una tappa individuata e arrestata. E mentre Erdogan apunta una ripresa dei colloqui tra Mosca e Kiev, il vicepresidente Medvedev lancia un nuovo avvertimento che i nostri nemici saranno schiacciati e la Russia raggiungerà la pace alle sue condizioni. Grazie per la visione!